I due omicidi erano maturati in una faida interna per ottenere il comando del clan mafioso della zona. La scia di sangue era iniziata il 3 ottobre del 2005 quando a Partinico veniva ucciso Maurizio Loiacono. Il fratellastro Francesco, 38 anni, arrestato oggi, e il nipote Sergio Macaluso, diventato nel frattempo collaboratore di giustizia, decisero di vendicare quel delitto. Nel 2007 dunque Macaluso, insieme al cognato Corrado Spataro, 34 anni, uccideva Giuseppe Lobaido. Nel 2011, invece, insieme a un altro cognato, Domenico Spataro, di 42 anni, commetteva l'omicidio di Giuseppe Cusumano. Sergio Macaluso da tempo ormai collabora con la giustizia, così non solo ha confessato la propria partecipazione ai due omicidi dopo alcune intercettazioni, ma anche è portato all'arresto dei due cognati Spataro e di Francesco Loiacono. Le dichiarazioni del collaboratore erano state confermate poi dalle indagini dei carabinieri e dalle parole di un altro pentito. Sia Macaluso che Corrado Spataro erano stati accusati di associazione mafiosa, estorsione aggravata e danneggiamento nel corso dell'inchiesta che aveva portato alle due operazioni Italia nei confronti dei mandamenti mafiosi di Resuttana e San Lorenzo. Domenico Spataro, invece, incensurato, è stato fermato oggi in provincia di Agrigento.